Ci stiamo dirigendo alla chiesa di San Lorenzo. La tradizione orale vuole che questo borgo sia sorto ai margini di una delle strade che partivano da Aquileia per i collegamenti con il mondo dell'est europeo. In particolare, si dice che di qui passavano i pellegrini diretti ad Aquileia per imbarcarsi alla volta di Alessandria, Gerusalemme e la Terra Santa. Comunque sia, San Lorenzo ha una storia antica, come testimonia la presenza di questa chiesa, originaria sede della pieve del territorio. Costruita nel XVII secolo sulle fondamenta di un precedente edificio religioso e dedicata al santo morto sulla graticola, il cui culto è strettamente legato al fuoco, alla luce e dalle loro funzioni propiziatorie. Grazie a tutti.